benvenuti volete scoprire come si fa oggi seguitemi la cagliata si raccoglie sul fondo ed ecco le nostre forme gemelle saranno nelle fasciere per due giorni è pronta per essere messa in salamoia da 14 a 30 giorni dopo nove mesi un tecnico del consorzio si occupa del primo contesto il grana padano diventa dopo abbiamo ancora tanto da dire sul nostro formaggio entrate non vediamo l'ora di parlare con voi